Si è insediato da meno di 24 ore il nuovo organismo di vigilanza dell'Ilva di Taranto, nominato il 25 settembre scorso dal commissario straordinario Enrico Bondi ai sensi del decreto legislativo 231 dell'8 giugno 2001. A renderlo noto è l'ufficio comunicazione dell'azienda siderurgica. Il nuovo organismo è composto da tre membri, il presidente, generale Cosimo Sasso, già direttore della direzione investigativa antimafia e comandante regionale Sicilia della Guardia di Finanza. Accanto a lui l'ingegnere Maria Chiara Zanetti, professore ordinario e direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino, nonché membro effettivo del Collegio di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. Infine il commercialista Pietro Mangiulli, revisore contabile e responsabile della funzione Audit Interno e Salute Sicurezza e Ambiente dell'Ilva S.P.A. Mangiulli vanta una significativa esperienza anche grazie all'incarico svolto all'interno di una società internazionale nel campo della revisione contabile e dei sistemi di controllo interno. Nel corso della prima riunione di ieri il commissario Bondi, assieme ai due responsabili, ha illustrato all'organismo di vigilanza l'attuale situazione dell'azienda siderurgica, la nuova struttura organizzativa e il nuovo sistema di deleghe in materia di salute, sicurezza e ambiente. Il nuovo organismo avrà il compito di vigilare in piena autonomia e indipendenza sull'adeguatezza, l'effettività e l'efficacia dell'intero modello organizzativo attraverso un lavoro di costante verifica.